Ed eccoci qui ragazzi per parlare del finale, delle scene post credit, di quello che sarà il futuro dell'MCU dopo Deadpool and Wolverine. Bentornati su Occomics, per contenuti come questi che vanno oltre ovviamente il semplice live action ma anche curiosità a tema Marvel e DC che riguardano i nostri personaggi preferiti, vi consiglio di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace per farci sapere che il video vi è piaciuto. Oggi parleremo del finale Deadpool and Wolverine, provare a capire che cosa è successo effettivamente nel finale, che cosa comporta questo finale e come vedremo questi due personaggi di nuovo nell'MCU e soprattutto il perché. Il perché non ve lo devo dire io, so i soldi perché questi due personaggi hanno veramente fatto un miracolo. Io ieri sono andato, anzi oggi in realtà, sono andato a mezzanotte a vedere il film e credo veramente di non aver visto così tanta gente in sala, ma non solo in sala, anche fuori dal cinema, da quando ero un ragazzino, da quando andavo al liceo, quindi dal pre-Covid. Sicuramente! Ed era mezzanotte, quindi figuratemi. Quindi questi personaggi verranno rivisti, ma cercheremo anche di spiegare nel dettaglio il perché, proprio per delle ragioni logiche. E io direi che possiamo cominciare subito e cominciamo proprio dal finale del film. Allora, per quanto riguarda il finale, la cosa su cui ci dobbiamo concentrare, proprio per andare a vedere una spiegazione logica, che poi in realtà non viene neanche citata alla fine nella pellicola, ma ripeto, è abbastanza logica, e il come mai l'universo di Wade sopravvive, come mai l'universo di Deadpool continua a sopravvivere, nonostante l'ancora dell'universo, quindi Logan, sia morta e quindi l'universo di fatto non aveva più senso di esistere. Qua, ragazzi, ci sono due risposte abbastanza semplici che potremmo dare. Intanto il fatto che quest'ancora, quindi questo personaggio estremamente importante, sia effettivamente stato sostituito, in questo caso, da un altro Wolverine. Quindi parliamo del Wolverine che noi abbiamo conosciuto proprio all'interno del film. Oppure questo è un altro riferimento che io pensavo effettivamente venisse spiegato all'interno del film, all'interno del finale, che poi non c'è più stato, che magari il personaggio chiave, cardine, di quell'universo lì non è più Logan, che appunto è morto, ma è un altro personaggio, ovvero lo stesso Deadpool. Comunque, in generale, la spiegazione più logica che possiamo dare è che questo personaggio ancora, che salva l'universo, che tiene le sorti dell'universo, ovviamente in un universo in vita, in quel caso lì, è comunque ritornato. Quindi stiamo parlando o di Wolverine o di Deadpool. E quindi, in generale, quello che possiamo dire dal finale è che quell'universo torna alla grande e torna totalmente in salute. Nel finale non vediamo nessunissimo riferimento di come questo universo qua riuscirà a legarsi a Terra 616, quindi l'universo principale, l'universo sacro, tra virgolette, quello in cui vediamo tutte le robe dell'MCU. Come ho detto anche nel video di ieri, quella è una roba che, per quanto mi riguarda, avrà a che fare principalmente con Secret Wars. Ma avverrà, avverrà assolutamente. Intanto, il Deadpool sicuramente verrà rivisto, cioè questo è poco ma sicuro. L'intero film sembra essere una sorta di celebrazione della Fox e anche di come Deadpool stia passando dalla Fox alla Disney. Passare alla Disney è un processo che è iniziato adesso, ma non ha ancora terminato. Quindi ancora non si trova all'interno di quell'universo lì, si trova ancora nell'universo da cui è partito all'inizio del film. Vedere il come si intreccerano il tutto probabilmente avrà a che fare con Secret Wars e quindi con le incursioni. Per quanto riguarda Wolverine, lo rivedremo all'interno di un altro progetto Marvel. Ragazzi, quando ogni volta che ne parliamo, almeno ogni volta che ne parlavamo, perché parlo ovviamente di qualche mese fa, parlavamo ovviamente della presenza di Hugh Jackman in quanto Wolverine anche nella futura saga dei mutanti dell'MCU. In molti mi scrivevano, no, ma Hugh Jackman ha detto che non ha più voglia, robe del genere. Questa però è una cosa che hanno bene o male tutti gli attori che recitano una certa parte in un franchise, ovvero il non averne più voglia quando il contratto sta per scadere. Quando il contratto viene rifatto, semplicemente poi la voglia ricompare. Ma questo è anche giusto che sia così. E anche all'interno dello stesso film, Deadpool stesso dice che è tornato e che quindi rimarrà qui, facendo anche una battuta della serie che glielo faranno fare per altri 90 anni. È una battuta che fa due volte, in realtà non dice per altri 90 anni, fino a quando avrà 90 anni. Glielo sussurra anche verso la fine. Quindi per quanto mi riguarda questo film, conferma al 100% che i due torneranno anche nell'universo principale, in qualche modo, ancora non è chiaro come, e anche X-23 a questo punto. Anche perché c'è da dire che Lora è l'unico personaggio del Void che noi poi, di fatto, rivediamo all'interno dell'universo di Deadpool. Un piccolo riferimento che io vorrei fare, ok, per quanto riguarda questo universo qui, secondo me è interessante, e anzi è il grande buco di trama di Deadpool and Wolverine. Ci viene fatto capire che l'universo di Deadpool, di tutte le avventure di Deadpool, è lo stesso universo di Logan. E anzi, addirittura, gli eventi di Logan sono già avvenuti, più o meno, perché comunque Deadpool torna proprio da lui per provare a resuscitarlo, per provare a vedere se è ancora in vita, in realtà. Ok, gli eventi di Logan, se vi riguardate il film adesso, sono ammettati nel 2029, mentre gli eventi di Deadpool and Wolverine sono ammettati nel 2024, quindi già le cose cozzano, ma uno potrebbe dirmi, magari ha utilizzato la tecnologia della TVA per andare avanti nel tempo e quindi ha saltato cinque anni in questo modo qui. Se questo fosse vero, allora Logan, quindi Logan che muore nel film Logan, tecnicamente è ancora vivo nel momento in cui noi vediamo il finale di Deadpool and Wolverine, e quindi quel universo lì ci sono due Wolverine. Troppa, troppa carne al fuoco, è semplicemente, ragazzi, essendo che tutto l'intero franchise di Deadpool è un franchise tipicamente fatto per fare delle battute che rompano la quarta paese ed è comunque un franchise comico, queste domande, secondo me, le possiamo tranquillamente accantonare e accettare il fatto che in quell'universo lì, in questo momento, il Wolverine principale è il Wolverine che abbiamo conosciuto in questa pellicola e vive insieme a Laura in quanto sua figlia. Un'altra grande domanda che però ci dobbiamo fare e secondo me è molto interessante e avrà a che fare con il futuro dell'MCU riguarda proprio gli X-Men e ne parliamo adesso nella seconda parte del video. Ovviamente cerchiamo di esaurire il discorso del finale del film, il finale è questo, ragazzi, quindi Deadpool vive ancora con la sua famiglia, quindi con le sue persone che gli sono più care, che sicuramente rivedremo anche loro perché fanno parte della lore comica del personaggio. Wolverine sta vivendo con Laura in questo universo, l'universo non deve essere più distrutto e la scena post-credit c'è, la scena post-credit c'è, ragazzi, ma è semplicemente una scena comica che fa riferimento a quello che è successo a Johnny, quindi alla torcia umana, interpretata da Chris Evans all'inizio del film, ovvero del fatto che è colpa sua se è morta. Effettivamente, quelle cose su Cassandra le pensava veramente e le ha dette veramente, quindi la scena post-credit c'è, ma non serve per il futuro del franchise o per spiegare alcune cose. Per quanto riguarda il futuro del franchise, ve l'ho spoilerato un po' prima, secondo me il discorso interessante da fare, da legare anche a Deadpool and Wolverine, è un discorso legato agli X-Men. In particolare in questa immagine vi ho messo Beast, che si vede alla fine di The Marvels, perché il discorso principale quindi è come unire la lore degli X-Men, quindi quello che noi vedremo probabilmente all'interno dell'MCU dopo la saga del multiverso, con la linea temporale che adesso è presente nell'MCU. Il discorso più semplice da fare è unire il mondo mutante, quindi un mondo che ha i mutanti e che quindi ha già la popolazione incazzata con i mutanti, cosa che non è mai stata citata nell'MCU con l'MCU originale, quindi unirlo magari appunto con le incursioni dopo il Battleworld, creando un nuovo universo. Su questo canale ne abbiamo parlato veramente tante volte. Spesso e volentieri nei fumetti, quando si parla di Secret Wars, le incursioni riguardano bene o male tutti gli universi, ma in particolare noi abbiamo due universi che si stanno veramente per scontrare, e che sono lì lì per scontrarsi e distruggersi l'un l'altro, e sono Terra 616 e poi il famosissimo universo Ultimate. In questo universo Ultimate ci sono diversi personaggi che non erano mai comparsi nella Terra Prime, vedi per esempio Miles Morales che è originario dell'universo Ultimate. Nel momento in cui si scontrano gli universi, quindi c'è l'incursione, c'è tutta la saga principale di Secret Wars, quindi ambientata nel Battleworld, alla fine Reed riesce a prendere i poteri che aveva a destino e ricostituisce il multiverso. Ricreando il multiverso, la timeline originale, quindi in Terra 616, acquisisce anche dei personaggi che provengono dall'universo Ultimate, tra cui per esempio Miles Morales, quindi in poche parole l'universo di Terra 616, quindi l'universo principale, viene ricostruito aggiungendo anche dei personaggi. Per quanto mi riguarda, questa è una soluzione ottimale per un MCU che non ha mai citato i mutanti, ma li deve far comparire in un mondo o nell'altro nella prossima saga. Quindi unire un universo mutante, che può essere l'universo in cui finisce Monica Rambeau, che è l'universo in cui noi vediamo Beast, con l'universo dell'MCU. Queste sono teorie che girano da tanto tempo e tutti quanti pensavano in realtà che queste robe qui le avremmo effettivamente viste all'interno di Deadpool and Wolverine, cosa che non è avvenuta. Come abbiamo detto già un paio di volte in questi giorni, è una roba destinata a Secret Wars, molto probabilmente. Quello che però ci può suggerire Deadpool and Wolverine, essendo che noi adesso abbiamo un Wolverine a cui ci siamo affezionati, con l'ultimo film che noi vediamo all'interno dell'universo, di questo universo qua, che vive tra l'altro con X-23 e secondo alcuni rumors, Laura Kinney sarà un personaggio importante per la saga dei mutanti in futuro. Ecco, visto che proprio loro sono personaggi a cui il pubblico si è affezionato e proprio quelle varianti lì, quella variante di Wolverine e il Deadpool che abbiamo parlato a conoscere, bene o male dovremmo vederli nell'MCU, mi hai da pensare. Non è che l'universo in cui è finita Monica Rambeau sia lo stesso in cui noi vediamo gli eventi di Deadpool and Wolverine, quindi l'universo in cui loro finiscono la loro avventura e iniziano a vivere pacificamente. In questo caso sarebbe semplice effettivamente per l'MCU far vedere quell'universo specifico con diversi X-Men, tra cui, tra l'altro, anche Deadpool insieme a quella specifica variante di Wolverine che cerca di risolvere il problema dell'incursione, cosa che appunto avviene nei fumetti. per poi vedere proprio quelle varianti lì all'interno di Secret Wars, all'interno di un eventuale Battleworld e poi unire il tutto. Fare questo, quindi utilizzare due universi e non centomila che si fondono insieme, secondo me, ha un pelo più senso. C'è da dire che è già stato confermato che l'universo dei Fantastici 4 è un altro universo ancora e anche loro dovrebbero comunque poi unirsi all'MCU, quindi già ne avremo tre. Ma tre è meglio già di averne venti diversi, quindi un universo solo per Deadpool, un universo solo per gli X-Men che hanno incontrato Monica Rambeau, un universo per i Fantastici 4, l'universo originale dell'MCU e via. Cerchiamo di sfoltire un po' il tutto e quindi proviamo a dire questa cosa. Molto probabilmente, almeno per me, all'interno dell'MCU vedremo proprio questo, ovvero l'universo che è finita Monica Rambeau è lo stesso di Deadpool and Wolverine e questo lo dico anche per semplificare. A livello di finale, alla fine, è molto semplice. Per quanto mi riguarda, la trama di Deadpool and Wolverine è veramente semplice e oggi o domani uscirà proprio una recensione del film, della pellicola per intero e anche per quanto riguarda il futuro dell'MCU c'è poco da dire perché ci conferma solo il fatto che quei due torneranno sicuramente nel franchise, ma non come, non ci dà neanche dei suggerimenti quindi possiamo solo immaginarli. Io chiudo ragazzi facendovi vedere anche il video che abbiamo fatto ieri quindi un riassuntone di tutti i cameo che ci sono all'interno del film se volete recuperarlo ovviamente cliccate e andate via a recuperare il video e io vi saluto. Ciao a tutti ragazzi!